L'assonanza e la comunanza tra le immagini di una zona di guerra e di una zona terremotata purtroppo, dico io, sono estremamente coincidenti. Dieci più dieci scatti per raccontare le macerie prodotte dall'orrore della guerra e dalla violenza del terremoto in attesa del grande concerto del prossimo 4 febbraio nella loggia al secondo piano del Palazzo Comunale di Arezzo è stata allestita la mostra da Cabulla Camerino, in esposizione le fotografie del reporter Paolo Ricciardi. Una mostra interessante che fa capo però a un progetto che secondo me lo è ancora di più ed è un progetto fatto dal Comune di Arezzo in concorso con un altro premio della professoressa Cucè che sarà anche protagonista a sua volta del concerto evento del 4 febbraio che è collegato appunto alla mostra fotografica che vedete dietro di me. Perché l'importanza di questo evento? Perché è un evento fatto con intento di beneficenza a favore della ricostruzione di un istituto musicale Nelio Biondi di Camerino e come sapete Camerino è stata travolta direi indissolubilmente ormai dal terremoto di due anni fa. Di fronte alla ineluttabilità di ragazzi che non possono più accedere se non attraverso un container condiviso con l'ITIS la mattina la scuola di musica senza una struttura è impossibile. E pensare che la musica non sia importante è molto, come dire, è negativo in quanto pensare a un paese ridotto al silenzio vuol dire far morire la gente per cui secondo me, almeno questo è ovviamente il mio pensiero modestissimo non si può prescindere anche in una zona di terremoto dal fatto che qualcuno dice ma state a pensare a una scuola di musica con tutte le altre necessità sì ma la musica è vita. Queste zone sono zone che soffrono anche di quello che è la carenza impiantistica quando succedono questi eventi tragici. Aise Impianti infatti ha processato e lavorato i rifiuti delle zone terremotate quindi è sempre presente, sempre accanto a questo tipo di iniziative perché un impianto integrato come il nostro è un impianto che dà delle risposte anche purtroppo quando avvengono fatti come il terremoto.